Eccoci qua, allora ben trovati, seconda parte di Roma città aperta, tra poco parliamo di questa segnalazione di via Marchetti, saluto però intanto Robinho Costi che è venuto a trovarci, presidente onorario di Gilexis Studio, questa associazione che ospitiamo ogni sottimana e che ci racconta di Cesare Augusto, ci parla di iniziative proprio in vista del bimillenario che ricorre appunto il 19 agosto ma che in pratica stiamo già vivendo, siamo nel 2014 e insomma torniamo al 14 dopo Cristo per appunto rifarci alla data esatta della scomparsa di quest'uomo che è suo imperatore, questa figura storica che ha sicuramente cambiato e segnato la storia dell'intero occidente. Allora anche oggi vi propongo una domanda e vi invito a darci la risposta tra poco, la domanda è quale donna dell'antica Roma disse se prevale il peggio e scoppia una guerra non si sa chi di voi toccherà in sorte di vincere o di essere vinto ma per me sarà una disgrazia in entrambi i casi. Ecco questo è il quiz che vi proponiamo oggi, naturalmente aspettiamo le vostre risposte allo 06 59 10 285. Lascio per adesso Robinho Costi e la domanda in sospeso e veniamo invece al nostro spazio, il nostro spazio dedicato all'imperatore Augusto, al suo bimillenario, abbiamo già visto la domanda ve la faccio rivedere ancora una volta perché aspetto la risposta entro pochi minuti se è possibile. Allora non si sa a chi di voi toccherà in sorte di vincere o di essere vinto ma per me sarà una disgrazia in entrambi i casi. Questa è la domanda, vado da Robinho Costi, presidente onorario di Gilexis e studio, riprendendo proprio il discorso che avevamo aperto la scorsa settimana che riguardava proprio le donne, lì eravamo in prossimità dell'8 marzo e quindi parlavamo di donne. Continuiamo a parlarne, abbiamo parlato di una figura sicuramente importante legata all'epoca e ai personaggi che hanno vissuto insomma la storia dei tempi di Augusto che è Opatra. Oggi di chi parliamo? Oggi parleremo di Ottavia, sorella di Ottaviano e di Livia Drusilla, se ci sarà tempo, moglie di Ottaviano. Sono, così come Chilopatra, due figure centrali di questo periodo. Questa è Ottavia, questa che vediamo. Questa è Ottavia, la sorellastra peraltro di Ottaviano. Tra l'altro bellissime acconciature che si facevano. Donna la quale era particolarmente affezionato, tant'è che per risolvere un problema di ordine politico e direi quasi prebellico nei confronti dell'Alto Triunvilo, Antonio, si decise una volta spartitisi le aree di influenza tra Occidente e Oriente, di consolidare questo accordo, a Brindisi avvenne questo nel 40, realizzando, promuovendo un matrimonio e quindi imparentandosi due triunvili. E Ottaviano propose ad Antonio di sposare la sorellastra Ottavia. E debbo dire, anzi la storia lo ha consacrato questo che sto per dire, che il suo ruolo fu decisivo perché in qualche modo, pur essendo virtuosa, dignitosa e dotata di una grande bellezza ed avvenenza, riuscì anche ad avere in modo sobrio, ad avere un ruolo direi politico nel regolamentare i rapporti tra i due triunvili. Era talmente bella, talmente bella che i Romani, quando Antonio poi decise invece di sposare Cleopatra e quindi di abbandonare la figlia, si lamentavano, Ottavia, si lamentavano del fatto che lui avesse scelto la donna più anziana e meno bella di Ottavia. Era così attaccato Ottaviano, che noi abbiamo ancora oggi via del Portico d'Ottavia, quella via che collega Piazza Costacuti con il Teatro Marcello. E dobbiamo anche ammettere, così per induzione, che Antonio in qualche modo ebbe anche un grande trasporto. Plutarco parla addirittura di tre figlie che abbia avuto Ottavia da Antonio. In realtà sembra più probabile che ne abbia avute due. E quindi si trattenne a Roma e in Italia per circa due anni, se facciamo il conto delle due bambine che sono nate. Quindi c'è stato questo grande trasporto anche di ordine affettivo, erotico probabilmente, ma comunque era donna di grande avvenenza. Dov'è che svolge un ruolo politico? E che però in qualche modo poi finirà agli occhi di Antonio di gettare un'ombra. Passati i tre anni, siamo quindi già nel 36-37, tornano a friggere i rapporti tra i due triunviri. E si ritrovano di nuovo a Taranto, dove consagrano il secondo triunvirato. E questo triunvirato avviene sulla spartizione delle aree, ma soprattutto su uno scambio di favori. Antonio deve preparare la campagna contro i parti e chiede al suo triunvilo due legioni che possono aiutarlo in questa battaglia. Di contro Ottaviano chiede ad Antonio cento navi con le quali si propone di muovere guerra per mare contro Sesto Pompeo. A quel punto subentra Ottavia. Ottavia chiederà al marito, ad Antonio, di prestare a suo fratello, oltre alle cento, anche venti navi leggere che possono comunque aiutarlo in queste battaglie che dovrà fare. E al tempo stesso chiederà al fratello di dare mille soldati scelti, diciamo una sorta di pretoriani che possano essere la guardia del corpo di suo marito. Se non che le cose non andarono così. Antonio prestò le centoventi navi, ma Ottaviano non contraccambiò il favore mandandogli le due legioni. E' a quel punto che nasce un dissidio profondo, la sfiducia da parte di Antonio verso Ottaviano. Fiducia che lui gli aveva accordato ancora in misura maggiore proprio perché era stata mallevatrice di questo rapporto la moglie Ottavia. La risultante di questo sarà che Antonio si legherà ancora di più con Cleopatra, otterrà il divorzio e caccerà dalla casa di Roma, le carine vecchia casa di Pompeo, la moglie alla quale aveva affidato, e qui c'è un aspetto molto bello direi anche sul piano del rapporto della donna, della donna madre e dell'ex moglie, alla quale aveva affidato non soltanto i figli che aveva avuto da lei, le due bambine, ma anche i figli che aveva ottenuto da Fulvia, dalla moglie precedente che poi era morta, quindi Ottavia aveva a cura non soltanto le sue figlie ma anche i figli di Antonio che aveva avuto da Fulvia. In quel momento Ottavia lascerà le carine, la casa di Antonio, lascerà la sua casa e tutta Roma applaudirà a questo gesto di grande dignità, di grande responsabilità, scacciata dalla casa, abbandonata dal marito però continuerà a prendersi cura dei figli che lui aveva avuto da Fulvia e quindi fa di questa donna una donna esemplare, non soltanto per la bellezza ma anche per la dignità e per il senso di responsabilità che aveva avuto verso l'ex marito, verso i figli dell'ex marito e anche verso il fratello Ottaviano. È una figura sicuramente esemplare. Infatti Ottavia è una delle donne che è nell'immaginario, ricordiamo come figura davvero esemplare. Allora chiedo a Clara Centilli in regia se è riuscita a recuperare, perché io l'ho dato un'informazione in ritardo, no non ancora, magari lo vediamo la prossima volta. Volevo far vedere a Rubinio Costi quali sono le iniziative che il Comune di Roma nel frattempo ha intrapreso, organizzato per il bimillenario. La scorsa settimana c'è stata una conferenza stampa del sindaco Marino dove appunto si annunciavano alcuni eventi, alcune iniziative proprio in questo 2014 per questa importante ricorrenza. Allora passo invece all'altra immagine, ricordando dei nostri telespettatori, c'è ancora la domanda in sospeso, anzi facciamola rivedere ancora una volta. La domanda, quale donna dell'antica Roma disse se prevale il peggio e scoppia una guerra non si sa a chi di voi toccherà in sorte di vincere o di essere vinto, ma per me sarà una disgrazia in entrambi i casi. Questo è il quiz di oggi, chiamateci allo 0659 10285 e noi però abbiamo anche un po' di tempo per parlare di Livia Drusilla prima di dare poi la risposta. Livia Drusilla, mi piace sottolineare un aspetto, era sposata con Tiberio Claudio Nerone, con delle ascendenze familiari anti-cesariane e Augusto proprio per Ottaviano, proprio per recuperare un rapporto con la parte ex-pompeiana del Senato, lascia Scribonia che era sorella del suocero di Sesto Pompeo, ma consolida ancora più il rapporto con la parte anti-cesariana del Senato, prendendo in sposa Livia Drusilla. Senonché era successo che Livia Drusilla era sposata già, era la moglie di Tiberio Claudio Nerone e lui aveva avuto già un figlio sicuramente, Tiberio. Si dice anche che la sposasse avendo in grebo già il secondo figlio, ma questi sono i rumores dell'antica Roma. Fatto sta che attraverso Livia Drusilla, Ottaviano ha consolido il rapporto con il Senato e questa moglie, credo che sia stata la terza moglie di Ottaviano, morrà addirittura dopo di lui. Perché diventa una figura anch'essa centrale? Di ruolo politico, dal punto di vista passivo l'abbiamo detto perché aveva questa ascendenza e la sua famiglia anti-cesariane, ma in ruolo politico si diceva almeno a Roma che l'imperatore governasse anche dietro i suggerimenti di Livia Drusilla. Qual è il sospetto che accredita, qual è la ragione per cui questo sospetto ha un suo fondamento? È che Augusto avrebbe voluto, come tutti gli uomini di potere, preparare la sua successione. In un primo tempo aveva pensato al nipote, a Marcello, di cui abbiamo poi il teatro Marcello. Questo ragazzo talentuoso, in gamba, preparato, però morì giovane. Allora si era acconciato a ipotizzare di vedere come i suoi successori altri due nipoti, i figli di Giulia, Gaio e Lucio Cesare. Fatto sta che anche questi due muoiono, giovani, nonostante che loro avessero già messo in mostra dei grandi meriti. Agosto si trova a dover individuare in un suo successore non un discendente per sangue, ma il figlio di Livia Drusilla che aveva avuto da Tiberio Claudio Nerone. Se non che il clima non doveva essere molto buono da questo punto di vista. E nonostante Tiberio si fosse messo anche lui in mostra per grandi meriti militari e anche politici, a un certo punto, chissà, forse per paura di doverci rimettere la pelle, si ridirò per 5 o 6 anni a Rodi, distaccandosi dal lagone politico e di fatto rinunciando alla successione. Probabilmente si deve a Livia Drusilla se il ragazzo viene richiamato da Rodi e sarà poi quello che sarà chiamato l'imperatore Tiberio. E quindi anche Livia Drusilla ha avuto un grande ruolo politico. Perfetto, altra donna importante nella vita di Augusto e quindi nella storia nostra. Allora, la risposta alla domanda, perché siamo in chiusura di spazio e dobbiamo accelerare. Oggi non abbiamo avuto nessuno che ci ha chiamato per darci... Probabilmente è una domanda un po' difficile. È un po' difficilina oggi, sì. Ma se ci si riflette un attimo la risposta era già nel primo argomento che abbiamo trattato. La donna che pronuncia questa frase è Ottavia, la sorella di Ottaviano, la quale dirà io che sono la più felice delle donne oggi, sorella di Ottaviano e moglie di Antonio, nel caso in cui voi due faceste guerra diventerei la più infelice. Quindi in entrambi i casi ne avrò soltanto dispiacere e dolore. È una figura da questo punto di vista direi quasi tragica, quasi tragica. Era proprio Ottavia, quindi la risposta di oggi. C'è la sigla di sottofondo, però citiamolo. Il canone Pace e il Bell di Marco Sparvoli ce l'ha portato, non c'entra niente con Augusto, ce l'ha portato Robinho Costi. Facciamo vedere questo libro. Ma riguarda la città di Roma, però. Riguarda la città di Roma. Come quello prima lanciato e quindi lì dentro ci sono molti aspetti della vita di Roma. Benissimo, grazie Robinho Costi. Ci vediamo con Roma Città Aperta domani alle 15.30. Arrivederci.